Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un'applicazione di Cydia che vi permetterà di mettere più di 12 applicazioni in una cartella del vostro iPod Touch. L'applicazione che dovrete cercare in Cydia si chiama Infini Folders. Questa è un'applicazione a pagamento e costa soltanto 99 centesimi. Una volta che avrete installato l'applicazione e che avrete riavviato il vostro dispositivo, già potrete mettere più di 12 applicazioni in una vostra cartella. Per esempio se io apro la cartella dei miei giochi, vedrete che oltre a queste 12 applicazioni ne avrò messe altre. Infatti potrete mettere un numero infinito di applicazioni, non ci sarà un limite. Poi se andate nelle impostazioni sarà presente l'applicazione e lì potrete cambiare varie impostazioni. Va bene ragazzi, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale per altri video in questo modo e per tenervi aggiornati per quando carico un nuovo video. E iscrivetevi anche al mio secondo canale e il link sarà nella descrizione. E va bene ragazzi, grazie per aver visto questo video e alla prossima.